Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Nelle scorse ore all'Isola dei Famosi è accaduta una vicenda mai successa prima, ovvero, degli intrusi avrebbero invaso la spiaggia dei naufraghi Una scena sconvolgente, ma ci saranno dei provvedimenti? Scopriamo di più L'Isola dei Famosi, Ilari Blasi.Nessuno avrebbe mai pensato di assistere ad una scena così surreale Nelle scorse ore, in Honduras, sarebbe accaduto l'impensabile Degli intrusi sono entrati in contatto con i naufraghi dell'Isola dei Famosi di Ilari Blasi Seri i provvedimenti in arrivo? Scopriamo insieme cosa è accaduto L'Isola dei Famosi, l'invasione inaspettata in Honduras, cosa è successo? Nelle scorse ore, il noto portale Anticipazioni TV, ha parlato di una vicenda alquanto sconcertante, accaduta proprio nella spiaggia dei nostri naufraghi Secondo alcuni telespettatori, per sbaglio, le telecamere del reality avrebbero ripreso una scena sconvolgente Ovvero, in un'inquadratura si vedrebbero degli intrusi nella spiaggia in Honduras Addirittura, i partecipanti sarebbero entrati in contatto con queste persone Proprio per questo, la produzione è stata costretta ad intromettersi e ad intervenire immediatamente per evitare uno scambio di informazioni Punto ma nel dettaglio cosa è accaduto? I naufraghi si sarebbero avvicinati a due persone vicino alla riva e ci sarebbe stata una breve conversazione Ma chi sarebbero questi intrusi? Scopriamolo insieme.Nel noto sito di Anticipazioni si legge che potrebbero essere i partecipanti di Supervivientes, ovvero la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, iniziata proprio qualche giorno fa Inoltre, si vocifera che i concorrenti spagnoli, si sarebbero allontanati notevolmente dalla loro spiaggia per pescare, senza accorgersene Ma la situazione si fa seria, siccome i naufraghi hanno avuto un contatto con persone al di fuori del reality, potrebbero subire dei seri provvedimenti da parte della produzione, scopriamo cosa potrebbe accadere Punto naufraghi dell'Isola dei Famosi.L'Isola dei Famosi, provvedimento in arrivo? Incredibile Anche se questo strano e inaspettato incontro è stato del tutto casuale, i naufraghi dell'Isola dei Famosi, potrebbero essere puniti Ma in un forum di appassionati del reality, sostengono chiaramente che non ci sarà nessuna sanzione, perché lo staff è intervenuto immediatamente Punto l'avvicinamento tra i concorrenti italiani e quelli spagnoli, è stato senza dubbio involontario Anche se i naufraghi di Supervivientes potrebbero essere richiamati a causa del loro allontanamento improvviso dalla loro spiaggia Purtroppo, non ci sono immagini che ci possano dare la conferma di questo incontro, ma tutto può accadere I lariblasi o i nostri naufraghi ne parleranno durante la prossima puntata? Non ci resta che aspettare per scoprirlo Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao